eccoci ciao a tutti ragazzi ciao ciao grazie e benvenuto a tra l'altro grazie di cuore di essere venuto con così poco per avviso mi dispiace non averti avvisato per tempo so che ho visto che ho visto che stanno commentando ora che non c'è audio quindi spero di non aver toccato niente di strano io vado a cercare sul diretto non c'è audio da me o non c'è audio per te ora sto cercando di capirlo più che altro perché c'è una specie un po di ritardo di una decina di secondi ok ora dicono che si sente tutto quindi a posta ok perfetto perfetto ok link for universe se vuoi vedere i commenti sono così ecco sì così riesco a vedere anche i commenti perfetto ciao ragazzi adesso ciao come te la passi durante questi mesi te l'aspettavi diversa alla fine del mondo e sì sì in realtà insomma mi immaginavo qualcosa di più spettacolare no qualcosa di più girava voce anche un asteroide in arrivo ma niente quindi è almeno un asteroide capito è un bel bel finale pilotecnico tu dici cazzo è arrivato l'asteroide almeno ce ne andiamo in grande stile invece manco quello no andiamo così chiusi in casa che vale sì vero poi almeno quando c'è un asteroide è una data precisa no quindi sai che quel giorno arriva alla fine del mondo e ti puoi fare i piani chiami le persone invece ora non sai mai è più una è presente quando sei in bus o in treno e saluti un amico però hai sbagliato fermata e poi ti tocca rimanere rimanere insieme sì è uguale siamo abbastanza imbarazzati se aspettiamo la fine del mondo ma tutti abbiamo già detto tutto quello che dovevamo dirci e quindi bellissimo ce ne andiamo con l'imbarazzo è la cosa migliore ma come te la stai passando tu più che altro io ho avuto uno sfogo oggi su instagram perché per me è peggio di prima che tu dici capito sono tutti in quella antena sei libero invece peggio di prima ma la quantità di live che tutti stanno facendo in questo momento su instagram no no lo so ne capisco perfettamente io sto facendo aperto il canale twitch appositamente per fare compagnia in questo periodo e poi vedere se continuare però vabbè in pratica sto facendo quattro live alla settimana a questo si somma il fatto che dato che è uscito adesso il libro devo fare il libro ho pubblicato adesso un articolo per l'università e quindi ho lavorato un sacco su quello sono stati sto in fase di festeggiamenti ma non posso e in tutto ciò mi continuano a tartassare di domande tipo quando esce il prossimo video quando fai il prossimo video io veramente mi sento più in ansia che mai c'è la quarantena per tutti ma per per noi o perlomeno per me non so se per te la stessa cosa sì sì a me la quarantena è come se non ci fosse anzi mi ha triplicato il lavoro perché io e questo oggi tipo sarei dovuto essere a fare uno spettacolo in sicilia quindi insomma me la sarei presa in vacanza invece sto a casa quindi posso lavorare e quindi sto lavorando di più di prima in un sacco di di campi diversi senza considerare che c'è insomma un sacco di cose stanno organizzando e quindi vabbè quindi niente sto sclerando proprio anche anche per me è uguale ho la sensazione che ci avessero è come se ci avessero detto il lavoro che dovete farlo prima ora dovete farlo al chiuso eh sì 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 infatti infatti solo che adesso è più facile ti dicono eh vabbè ma dai c'è la quarantena c'è la festa potrai fare anche quest'altro non si rendono conto che tu stai proprio capito sì ti immagini però giusto per darti una prospettiva di tempi più bui ancora se ti senti meglio anche a te piacciono i tempi bui immagina come come vivremo noi l'autunno con tutti i festival che sono stati rimandati tutti quanti in autunno contemporaneamente tutti e tutti cercheranno di rimediare anche quindi no sì ma tra l'altro anche per questo è un disastro perché tipo tutti gli eventi che mi sono saltati questo mese sono rimandati al in tutto l'anno si sono spartiti capito di sviluppi equamente quindi mo che finisce sta situazione io non capisco non so cosa cosa succederà è veramente una follia e quello che è successo in questo mese tipo è esploso essere di partito di tutto l'anno ci saranno un sacco di cose capito che organizzeranno ma tutte insieme cioè considera anche soltanto i festival del fumetto no li hanno cancellati tutti quanti e ovviamente poi si accavaleranno tutti quanti importanti e i meno importanti tutti quanti nello stesso periodo sarà un portello guarda il mio libro doveva uscire è ancora in teoria in uscita il 31 marzo e la rizzoli ancora quando li ho chiamati per chiedere quando uscirà mi hanno detto aspettiamo ti facciamo sapere resti tu che puoi no tu che puoi a me sono un disastro a me è uscito in piena quarantena c'è tipo tre giorni dopo che hanno annunciato che non si poteva uscire quindi ho arrivato nel negozio nelle librerie ma nessuno poteva andarci e quindi è surreale poi va bene la gente sta comprando online tutto quanto ma non fa niente è soltanto che ti fa ridere perché insomma tu lo sai quanto ci quanta fatica costa scrivere un libro quanto sforzo io mi l'ho chiuso in casa per più di un mese facendo questa cosa quindi a fine dici vabbè ho la soddisfazione sta uscendo il libro vado a fare una passeggiata lo trovo in libreria manco quello e vabbè allora andate e possibite quante probabilità c'erano che sarebbe successo incredibile ma ha capito secondo cioè se l'avessero detto se ti avessero detto a capodanno che tra due tre mesi sarebbe stato la fine del mondo no vabbè sì no 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 è stato surreale io mi ricordo per è strana la sensazione perché mi ricordo quando c'erano due casi in italia e basta che c'erano alcuni che dicevano guarda arriverà anche qui non siamo pronti e tutti pensano sì vabbè tanto te rimango figurati e quindi non lo so come la sensazione che continuo avere questa sensazione che a quante cose avremmo potuto fare tipo se fossimo partiti con tutta sta tensione a febbraio però vabbè ma ti dico francamente dato che sto seguendo questa faccenda abbastanza costantemente nonostante io abbia dei picchi cioè nel senso che arrivo a un certo punto in cui sono saturato dalle informazioni e quindi dico basta mi tiro fuori per tre quattro giorni dopo tre quattro giorni diciamo voglio recuperare le informazioni che mi sono perso è cambiato tutto e tu dici ma com'è possibile c'è centinaia di informazioni diverse è stato un casino sto fattore virus perché continuano ad uscire degli articoli scientifici alcuni c'è stato un mese c'è il mese scorso sono usciti tipo 400 articoli tra review articoli propriamente di studio sui coronavirus eccetera e quindi capito io studiavo questi articoli dicevo vabbè ho delle informazioni o passava il giorno alcuni articoli non stati ritirati altri articoli non stati cambiati altri ancora perché capito c'è questa corsa a pubblicare eccetera e non ci stavo capendo più niente quindi tantissime informazioni che noi avevamo erano fasulle da tempo di permanenza nell'aria quanto sopravvivere sulle superfici come fare eliminare tutte queste informazioni sono ancora incerte tutt'oggi ma tu pensa che sono stati pubblicati gli articoli tipo due giorni dopo che era scoperto il primo caso e tu dici ma capito è stato un casino io ad esempio quando stava diffondendosi l'informazione del coronavirus avevo pubblicato una serie di considerazioni basate su quegli articoli e tra queste considerazioni c'era proprio il fatto non vi preoccupate difficilmente arriverà in italia perché si sapeva poco il tasso di crescere lento eccetera poi non avevamo capito abbastanza mezzi all'epoca per capire è stato un casino quando io io penso in realtà che proprio per il fatto che ho vissuto all'estero un sacco sono in contatto con ambienti esteri ti assicuro che noi meglio di così non avremmo mai potuto fare secondo me perché in francia il virus il dibattito ciò che ha detto macron di recente è sostanzialmente vabbè chiudiamo le scuole per un po di tempo però continuate a lavorare non fa niente in germania hanno detto non ce ne frega niente del virus non possiamo far crore l'economia e quindi vabbè qualcuno morirà pazienza che poi è esattamente lo stesso discorso che hanno fatto in inghilterra e questo è successo adesso quindi insomma secondo me noi come italia abbiamo reagito in una maniera pazzesca noi siamo diciamo l'esempio proprio da seguire ma non in europa proprio nel occidente in america sta succedendo più o meno la stessa cosa probabilmente trump c'è il coronavirus ma non vuole farsi il tampone bolsonaro si è beccato il coronavirus aveva incontrato trump tipo qualche giorno prima quindi molti pensano che lui abbia il coronavirus però lui si rifiuta di fare il tampone c'è una cosa surreale questo è immagino se se viene fuori che davvero c'ha al coronavirus immagino la reazione delle borse sarebbe pazzesca no vabbè diciamo che la paura per come stanno vivendo le borse in occidente certo la borsa al momento sembra avere la priorità sulla malattia per dirti in inghilterra a johnson ha fatto un discorso orribile dicendo in sostanza dopo fare l'immunità del gregge quindi dobbiamo ammalarci non ce ne frega un cazzo preparatevi a dir addio ai vostri cari non sto scherzando lo ha detto quindi cazzo e quindi capito noi siamo veramente nella parte fortunata del mondo al momento perché da noi l'hanno presa con la serietà giusta da subito e perché appena si è diffusa la notizia di quanto fosse effettivamente grave abbiamo preso delle precauzioni e noi abbiamo le precauzioni più rigide che stanno al momento in europa per dirci non è da questo punto di vista si tra l'altro sono sicuro anche che se continuerà di questo passo si vedranno i segni di sicuro perché già si parlava ieri no del fatto che calla la crescita esponenziale dei dei casi quindi ma e invece per quanto riguarda la comunicazione visto che condividiamo più o meno questo panorama di occuparci di comunicare la scienza come l'hai vissuta il modo in cui è stata comunicata beh allora inizialmente io ero ti confesso che ero un po felice anche della quarantena perché comunque ero un po stressato dal fatto che stavo facendo un po troppi eventi no quindi mi mi aspettava un mese di tour in pratica dove non tornavo mai più a casa non mi sarei più seduto è una cosa che bella all'inizio però alla fine ti arrivi proprio non vedevo l'ora di iniziare perché a me piace da morire ovviamente se non lo farei però mi stavo preparando un pochino con un po di timore al periodo dopo dopo quando insomma dopo due tre settimane che tu stai tipo corto proprio e quindi inizialmente ho detto dai che bello sto a casa posso lavorare fare un sacco di cose che non avrei avuto il tempo di fare altrimenti il problema è che ti ho detto le cose stanno peggiorando perché dato che ci sono così tante cose da fare e ora non c'è più il tempo nemmeno di fare quelle cose da d'altro canto io sono felicissimo di come sta rispondendo la comunità scientifica nostra dei divulgatori perché comunque insomma io sono divulgatori insensurato mi avete fatto divulgazione diciamo però vabbè c'è anche chi la prende diciamo come missione di vita tipo io nella vita voglio fare divulgazione scientifica c'è tutto per cento e ho visto comunque bene o male tutti quanti stiamo muovendoci per colmare questo piccolo momento di vuoto che si creerà negli eventi dal vivo e secondo me lo stiamo colmando tanto bene non solo per una live che stai facendo tu non solo per tutte le live che stiamo facendo tutti quanti ma per gli eventi che stiamo organizzando hai visto questo evento nuovo che ci sarà prossimamente si è iniziato da al science web festival al supernola giusto esatto ad esempio quello è un eventone bellissimo bellissima l'idea di utilizzarlo sono molto felice è una bella un bel esperimento anche se ci pensi c'è assolutamente non sarebbe mai non avremmo mai potuto fare una cosa del genere uno mi sta chiedendo capitano meta rally ecco quello il mio dolore della vita ragazzi non posso andargli a comprare ma ti ne dico tra l'altro ho visto che prima chiedevano di vincenzo ovviamente appena sei entrato di se si al sicuro se si becca anche lui il coronavirus senti ma tu guardando ora la tua al tuo ultimo anno che hai fatto un sacco di cose hai vissuto una trasformazione di come ti senti tu anche su youtube cioè rispetto a un anno fa di dei video che facevi o più o meno è tutto cambiato apparezzo anche a te cioè noi che facciamo video su youtube come diciamo ulteriore cosa c'è non è che noi non è che siamo solo youtube facciamo altre cose no e quindi penso che sia un continuo divenire io non pensavo che avrei fatto le cose che ho fatto l'anno scorso due anni prima e le cose che sto facendo quest'anno non pensavo di fare l'anno scorso tutto succede così a caso io dico sempre mi lascio trasportare dal vento ed è esattamente quello che sta succedendo io adesso sto facendo un sacco di cose che non avrei pensato che avrei potuto fare e quindi sì cioè la sto vivendo in maniera particolare questo ti spiega anche il perché mi sento così ansioso in questo periodo perché mi sono diciamo fatto uno piccolo sfogo all'inizio proprio perché sapendo che ci sono delle persone che che io non mi aspettavo che sarebbe successo ma delle persone che aspettano così tanto che io pubblichi un video mi mette ansia perché io uno l'ansia la prestazione che so che il video deve essere bello se il video esce brutto mi sento male e ci serve tanto e due devo trovare il tempo di farlo e tempo comunque continua a scarseggiare questo momento così tu invece cosa ne dice ma guarda anch'io ora avevo tutta una serie di piani ovviamente che sono stati rimandati perché avevo l'idea di costruire un nuovo set e fare diverse cose anche di affrontare tematiche più complesse secoli e la maledizione che magari di alcune cose potresti parlare anche in live però quando ti fai un'idea su come vuoi costruire il video con il montaggio fatto in un certo modo con lo studio poi ti dispiace un po' sciupparti quell'argomento con la live non che le live non siano belle però ovviamente non ha montano non c'è niente intorno no quindi mi sento come se tutti quei piani fossero parcheggiati li da una parte e boh fa un po' strano dall'altra parte capisco cioè è una per forza di cose si va si va avanti così mi piace molto come dicevete giustamente che c'è una stata una reazione molto bella da parte di tutta la community che lavora in questo senso quindi questo mal comune mezzo gaudio in se si fa compagnia sì mi piace guarda se non altro e lo colgo l'occasione anche per dirlo a chi chi legge ora qui ci segue nei commenti e dal vivo se se volete lanciarvi per fare divulgazione è un ottimo momento è un momento fantastico per iniziare a pubblicare video fare esperimenti questo momento storico dico non soltanto ora ora che c'è la quarantena ma dico in questo momento perché tu per esempio hai più esperienza anche all'estero le comunità di divulgatori molto più grandi rispetto a quanto l'italia sta ancora iniziando per sì 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 ma ti dirò io però non sono in grado al momento di fare un paragone sai perché quando ero all'estero e ci sono stato per quasi sei anni anche di più in realtà considera che ero solo ricercatore io non facevo assolutamente cose del genere quindi si partecipavo conferenze scientifiche ma ero nelle vesti di ricercatore presentavo i miei lavori però non è esattamente divulgativa come cosa capito no per addetta lavori è una cosa un po noiosa se vuoi per la maggior parte delle persone specialmente cioè era noioso per me perché casomai io studiavo in quel caso polimeri e quant'altro andavi a fare la conferenza ti beccavi un sacco di non lo so è super capacitatori roba elettrochimica che a me non piace per niente e tu sei lì cioè è noioso per me immagina uno che non sa manco che cosa è elettrochimica capito che cosa che che sensazione orribile deve essere e quindi sì non ho un bel metro di paragone quello che ti posso dire è che non sapevo però del movimento che ci fosse in italia l'ho scoperto in realtà tutto quanto un anno e mezzo fa più o meno con la gente mi diceva delle cose vabbè ovviamente conoscevo te per via di youtube però tutti quelli che adesso vengono definiti di bollingers questo gruppo di divulgatori che facciamo parte io ignoravo la maggior parte di loro proprio per il fatto che non non vivevo tantissimo la vicenda italiana diciamo e quindi mi ha sorpreso un sacco scoprire che c'è questo movimento pazzesco che siamo così tanti che capito superiamo il centinaio di persone si capito si da ci da dentro cavolo è una cosa surreale pazzesca e poi c'è molto affiatamento quindi devo dire mamma mia che cosa pazzesca d'altro canto ci sono un sacco di messaggi che ricevo continuamente non so se a te capita di persone che dicono voglio diventare un divulgatore e io ovviamente sprono tanti tantissimi ma altri metto anche le mani in avanti perché al di recenti mi sono arrivati dei messaggi ad esempio di una persona che mi diceva guarda io non so niente di scienza però voglio divulgare se io scrivo queste cose tu me le controlli e io ho detto uno non ho tempo ma due cioè condividi quello che dice qualcuno capito per cui ti fidi qualcuno che sa ma non è che devi sentirti la necessità per forza di dire qualcosa no certo certo ma più che altro secondo me non è detto cioè se vuoi farlo in qualcosa che è il tuo campo ti semplifica la vita perché poi è faticoso ci sembra facile ma è molto faticoso fare questa cosa quindi se devi anche occuparti di una materia che non è la tua al di là del rischio che ti porti dietro morale per cui io non ci dormirei la notte per parlare di qualcosa che non mi compete che poi dopo specialmente quando arrivi a tantissime persone no già ora ci sono cioè mi metto le mani nei capelli che magari mesi dopo rivedo un video mi rendo conto che ho sbagliato una cosa e poi tutti mi dicono ma guarda non è così importante però è tantissimo e quindi ti rimane questa cosa però già è pesante così per cui se ti devi occupare di qualcosa meglio se si uno si occupa di anche perché non è detto che solo perché tu pensi che sia impossibile da fare all'inizio cioè perché ho incontrato per esempio una ragazza che mi diceva che a lei piacerebbe tantissimo parlare di archeologia lei si occupa di scavi eccetera però che pensa che sia noioso e che a nessuno interesserebbe perché è una materia noiosa però cioè Alberto Angelo ci ha fatto un'intera carriera solo su questo a parte quello dipende molto dal modo in cui innovi dipende molto dal modo in cui fai le cose alla fine credo che la parte più bella anche di come che tu sei molto la dimostrazione di questo è che i mezzi portano alla capacità portano alla luce nuovi modi di veicolare comunicazioni di fare comunicazioni cioè molte cose che ha fatto il cinema quando è nato il teatro neanche si sarebbe sognato però inizialmente quando il cinema ha cercato di imitare il teatro venivano cose che erano tipo un po' spettacolari perché vedevi cose in movimento ma niente di più e quando hanno iniziato a creare ad essere indipendente non pensare di essere teatro ma fare una cosa che funzionava lì e basta allora è esploso è diventata una forma d'arte quindi credo che al di là di youtube ma quando pian piano ci renderemo conto che fare video online ti apre a mille possibilità che non sono la tv che puoi fare cose uniche qui che non devi imitare quelle che vedi in tv darà tipo spazio largo alla creatività all'immaginazione di tutti anche perché tipo le cose che mi hanno fatto un sacco ridere che quando è stata una sovrapposizione quasi di idee con qualche settimana messe di distanza tra te e il trono del muori tra l'approccio comico perché molti fanno lui l'ha inventato per primo no lui l'ha inventato per primo che mi veniva a dire omero l'ha inventato per primo se per questo di parlare male della gente però alla fine è bello perché vuol dire che è un momento molto creativo e credere ci sono talmente tante posizioni perché avete comunque nonostante magari possono esserci somiglianze sono format che vivono di quella che è la personalità di chi le porta certo certo cioè alla fine sì 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 io mi ricordo quando mi scrisse Filippo Filippo sì è giusto adesso ci usciamo ogni tanto siamo amici ci scambiamo l'ho visto ubriaco diverse volte quindi è viceversa è viceversa però vabbè sì il discorso è all'epoca cioè io avevo fatto da un anno da un anno e mezzo che facevo più o meno quel format lui aveva fatto un video così ma non mi conosceva e quindi mi scrisse subito dicendo mi hanno detto che ho fatto un video come il tuo ma io non ti conoscevo ti giuro ho detto no vabbè tranquillo e poi uno ha preso le strade diverse come giusto che sia però vabbè questo è un esempio o comunque è un esempio che io faccio per tutti i campi proprio hai ragione quando dici che YouTube e il web ti dà la possibilità di esplorare linguaggi che prima non si esploravano perché se la televisione era vincolata a determinate format a determinate strategie il web ha dovuto cambiarle proprio radicalmente e il fatto che ognuno aveva la possibilità di fare quel che cacchio gli piaceva quel che cacchio voleva senza doversi preoccupare di sponsor di pubblicità e di quant'altro come succede invece a livello televisivo avevi la possibilità di esplorare veramente completamente la tua fantasia noi abbiamo avuto secondo me delle rivoluzioni sul web piccoline tante cose che adesso oggi ci sembrano banali c'è qualcuno che le ha inventate e a cui qualcun altro gli ha detto ma che cazzo stai facendo questa cosa è sicuramente una cavolata sì 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 e ora noi le troviamo quasi banale perché quella cosa ha funzionato così bene e che la fanno tutti quasi capito stiamo rivoluzionando il linguaggio e per questo che dicevo anche per quella ragazza che voleva parlare di archeologia o quant'altro c'è sempre un metodo per parlare di qualsiasi cosa la cosa figa è trovare il tuo di metodo e vedere se questo funziona col fatto che abbiamo veramente la possibilità di guardare canali di tutto il mondo io ho visto canali ho visto moltissimi canali francesi che fanno delle cose assurde canali americani che fanno cose assurde incredibili cioè veramente ti esplode il cervello quindi tecnicamente può fare qualsiasi cosa è un modo per arrivare alle persone se c'hai abbastanza creatività ce l'hai se poi vuoi semplicemente parlarne va benissimo cioè sicuramente funziona però sì al momento è proprio questo il momento fecondo per poter lanciarsi nuove nuovi tentativi e nuove avventure senza preoccuparsi troppo e soprattutto farlo senza aspettative perché comunque stiamo parlando del web tu fallo e non ti preoccupare poi vediamo no davvero anche perché in realtà aiuta molto perché non ti dà la pressione di doverlo fare che è proprio quello che ti limita quando arrivi a beh più che ti limita comunque se cresci tanto quando diventi più grosso e sai che è il tuo lavoro che dipende economicamente eccetera è un si complica per cui quando inizi è se proprio spensurato secondo me è uno dei momenti più sottovalutati perché tutti vogliono crescere velocemente ma non è detto che sia la cosa più esatto esatto più bella no perché ti dati se hai cresci piano hai tutto il tempo di sperimentare su te sul pubblico per vedere sì 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 no ma sono d'accordo sono d'accordo questa è una delle fortune che sento di aver avuto perché col fatto io non ho mai aspirato a fare a vivere di video no sì 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 che quindi capito io i video li facevo veramente poi quando li ho fatti proprio che mi stavo stressando tornavo a casa dal lavoro mangiavo mi mettevo a montare capito la giornata proprio devastata se uscivo avevamo i sensi di colpo perché non stavo a montare quindi ma io uscivo spesso quindi puoi immaginare e quindi va bene però quella cosa sì cioè ti manca perché lo fai veramente per te stesso per il pubblico e devo dire che quando il pubblico è piccolo hai anche una possibilità di leggerezza pazzesca io ora veramente faccio molta molta attenzione a qualsiasi cosa pubblico sul primo canale perché se a me non piace non convince al 100% non la pubblicherò mai ho fatto il secondo canale apposta per questo ma perché sento il peso di tante persone che mi guardano mi hanno dato fiducia quindi sento di dover guidare sempre quello che insomma non quello che si aspettano perché secondo me è sbagliato ma più che altro quello che certo certo gli puoi garantire al massimo per questo ogni volta che faccio qualcosa che va un pochino leggermente a meno dello standard lo butto in un secondo canale che ho fatto appositamente per lasciarmi andare dalla libro o quant'altro però sì ragazzi l'inizio è pazzesco perché tu parli con la persona e puoi fare qualche cacchio ti pare puoi stravolgere i format da un giorno all'altro senza dover rendere conto a nessuno puoi vedere cosa funziona cosa no puoi pubblicare video un giorno puoi non pubblicarle mai e le avevo fatti tutti le avevo passate ed è veramente una bella avventura siamo invecchiati ne parliamo come i bei vecchi tempi i bei tempi all'epoca li ricordi quando per andare a internet tu mi giri la mano bella no però mi ricordo quando ho avuto internet per le prime volte mi ricorda ancora la preoccupazione di dover essere sicuro che nessuno ha il telefono o di che potevo stare perché era la stessa linea no quindi non arrivavano le chiamate a casa se eri su internet sì i primissimi video io il primo primo video che ho mai caricato in cui parlavo di scienza l'ho fatto a 16 anni ero in seconda superiore nel 2003 l'ho fatto facendo esperimenti facendo professori in gesso nel laboratorio di chimica li scioglievo cioè li mettevo in varie sostanze basi, acidi eccetera per vedere che succedeva al gesso e spiegavo quello che hanno insegnato a lezione quindi niente di stravolgente però per me da 16 anni ero vestito col camice da laboratorio e con una camera trust che si rompeva ogni volta bellissimo e mi ricordo l'ho postato su non c'era una piattaforma all'epoca l'ho postato su Barstar di dentro dove postavi postare video e di solito la maggior parte erano che non so gesta da non fare a casa fatte a scuola salte sopra 30 sedie lanci dalla finestra e sì mi ricordo che li caricavo di nascosto in biblioteca e non mi sarei mai aspettato che quello sarebbe diventato qualcosa di cui poi è diventato così e mi piace ricordarlo più che altro anche quando lo racconto ai ragazzi a scuola o comunque quando faccio incontri perché secondo me quando pensi quando diciamo ai ragazzi cosa volete fare da grandi si perde un po' il gusto di immaginarsi di poter fare qualsiasi cosa perché molti dei lavori che magari ci saranno tra 20-30 anni neanche se li immaginano ora sì 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 io quando faccio le lezioni in scuola e faccio e presento questa cosa io sono molto meno diplomatico di te e quindi io generalmente parlo di porno vi racconto di quando eravamo piccoli noi e tu per sbaglio beccavi un qualcosa di vagamente pornografico e c'hai sei anni che per te è una cosa guarda intorno dicevi no ma dove mi trovo è impossibile io ricordo che quando ero piccolo andai a un festival che c'era a centro di Taranto e c'erano due tizi che stavano ad un computer a guardare un porno e io li vedevo da lontano ero piccolo ero bambino ed ero rimasto affascinato perché quello è stato il primo porno che ho visto da lontano capito e se ci pensi se ci pensi è esattamente questo cioè noi ormai siamo vecchi cioè noi diciamo la generazione precedente tende a dire noi abbiamo avuto la fortuna di fare questa cosa ma no cioè secondo me quelle della nuova generazione sono un sacco fortunati perché hanno dovuto evitare un sacco delle diciamo dei disagi che abbiamo visto noi per farti un esempio io da musicista quando volevo registrare i miei pezzi dove andrei forse in uno studio adesso puoi fare tutto quanto in casa c'è gente che produce dei pezzi da paura e riporta cioè tutti fatti in casa quando eravamo bambini e con gli amichetti volevi prenderti il giornaletto porno dovevi andare ridicolante e dovevi avere la faccia tosta di dire vorrei quello e quell'altro vorrei un pacchetto di gincombe è quello tutti gli amici dietro che ridono perché ah tu è una persona scommessa ed era questa cosa che faceva un amico mio noi ridiamo un sacco era il tele più una cosa del genere un giornale dove c'erano dentro i programmi televisivi però dentro c'erano anche le donnine e loro questo gruppetto di amici facevamo la colletta tipo 20 centesimi a testa era una cosa surreale capito degradante a benessima potenza e quindi capito fare i video su youtube all'epoca se tu avessi avuto una voglia un'idea da realizzare dovevi prenderti il tuo cellulare che faceva le fotografie quelle tipo tutte sgranate e basta cioè ti attaccavi non c'era alcun modo e come lo condividi non potevi condividerlo con nessuno davvero cacchio che per scaricare una fotografia ci voleva un giorno che devi lasciare il computer acceso io ho fatto un corso a scuola di web design dovevo caricare una gif per scaricare quella cacchio di gif ci ho messo un giorno ed era la gif di un uomo sovrappeso che balla e un giorno cioè queste cose sono senta che vuoi indietro col giorno della tua vita vedo che in chat c'hai dei professionisti stanno scrivendo tele tutto telesette riconoscono tutti bravi è cultura io mi ricordo che c'era il mio primo contatto qui in Italia è stato quando ero in gita con questo con telesette e tu quanto perché un gruppo di ragazzi mi ha detto oh bisogna ritrovarci a tipo luna di notte tutti la stessa camera d'hotel a guardare la tv ed era appunto per un tizio che ora non mi ricordo quasi niente del programma era un tizio pelato che faceva delle interviste sulla spesa delle donne nude era una trasmissione lui era qualcosa di bar lui era una specie di bar pub qualcosa una stazione stile bar e lui faceva interviste a queste era una cosa trash bruttissima no no ma per carità perché l'epoca noi vivevamo queste cose insomma per noi era una cosa surreale rivoluzionaria ma no ma tra l'altro io ogni tanto mi guardo ho ancora delle registrazioni di mai dire tv e mi guardo cioè perché la gente se la mette ora di canali su youtube o del trash che c'è su internet guardi la creatività del trash che c'era nelle tv regionali italiane negli anni 90 quando diventò di moda aprire chiunque qualsiasi città aveva la sua tv della propria comune anche i comuni più sperduti sono venute fuori delle cose che dovrebbero essere archiviate per il futuro dell'umanità stile bunker anti-atomico no ma sì cioè c'erano delle cose veramente surreali che poi ti devo dire la verità tante cose ancora ci sono ti posso fare una piccola critica alla tv perché io non accendevo la tv da anni perché all'estero ovviamente non me ne fregava niente di sentire la tv inolantese con tutto il bene che voglio però e quindi capito io non ho da anni che non accendeva la televisione quando sono tornato a novembre o a ottobre a Taranto sono stato a Taranto per una decina di giorni a pranzo i miei guardavano la televisione e io ho beccato un programma era sulla Rai era un programma famoso tipo domenica in qualcosa del genere che era non lo so mi ha mi ha scatenato il panico ho detto no ma non è possibile che stanno veramente facendo vedere queste cose ma siamo pazzi cioè e cosa è successo era venuto in trasmissione Giorgio Mastrota ah ok allora l'intervistatrice non mi ricordo chi era lì fa ah Giorgio Mastrota ma tu hai divorziato con quella vero e lui eh sì sì e adesso lei si è messa con un altro è vero e lui faceva eh sì sì adesso sta con quella ti ricordi quando quella ti ha fatto le corna che cosa hai provato e io stavo vedendo questa cosa che voleva sembrare un'intervista ma in realtà era un tentativo disperato di fare gossip becero ma tirando in ballo senza nessun ehm contesto delle vicende orribili di questo pover uomo di cui deve aver sofferto tantissimo tu le tiri in ballo così in intervista dicendo oh ma ti ricordi quando quella ti ha fatto le corna oh ti ricordi quando hai pianto ah ah ti ricordi quando ma si pazza è andata avanti così e quindi mi sono reso conto che in effetti le cose non sono cambiate sono cambiate nella forma però è proprio sì 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 ne abbiamo ancora sta roba mamma mia Giorgio Mastrota cavalier custode dell'acciaio inox vedo che c'è un gente di cultura qui bravi bravi ah beh una delle cose che mi ricordo peggiori erano i Darwin come si chiamavano quelli che erano su Mediaset e ciao Darwin ciao Darwin ciao Darwin sì 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 ti ricordi perché erano poi erano piene di una quantità di sessismo pazzesca nel modo di dimostrare copia ma anche tutto il resto tutta la mentalità che c'era dietro sembrava una cosa così specialmente quando l'hanno tirato di nuovo fuori pochi anni fa sembrava sì perché strideva tantissimo cioè magari si notava meno negli anni 80 e 90 era comunque sbagliato ma magari in quel ambiente in un momento si notava meno ma oggi per la sensibilità che c'è oggi era talmente evidente che era fuori dalla sua epoca fuori dai tempi e che cringe malissimo tutto il tempo no però è bello che stiano cambiando i tempi capito perché ho notato che tante cose modi di dire italiani non si stanno usando più che in effetti capito se tu riassoci dei modi di dire che avevano i modi italiani erano proprio abbastanza sessisti tipo chi è che porta i pantaloni in famiglia o quella donna alle palle capito tutte queste cose qua sono piccolezze che però quando non le usi per tanto tempo e poi le risenti effettivamente dici ma cavolo cioè vabbè il mondo sta cambiando devo dire mi ricordo a tutte le oscenità che dicevamo noi cioè io tranquillamente quando ero piccolo con gli amici dicevamo cose oscene che non ritraterei mai senza cattiveria perché all'epoca funzionava così all'epoca c'è quella mentalità quel giro quando ci ripenso dico cavolo ma io dicevo delle cose del genere che non erano cose brutte nell'inteso però era in modo di dire capito che era brutto e quant'altro e però sono molto felice che siano cambiati i tempi insomma però meno da noi vedremo come va però stiamo facendo passi al gigante hai visto che hanno fatto sul RAI il coronavirus oroscopo eh allora io sono molto felice che lo abbiano notato perché da quel momento Paolo Fox ha lasciato ha mollato non ha fatto più questo oroscopo perché quello era l'oroscopo di Paolo Fox in realtà ah e però cazzo tu non puoi mettere veramente il tv nazionale mentre stanno parlando di cose serie sotto le stelle cosa dicono del coronavirus ma tu mi prendi un culo cioè possiamo io davvero se lo prendiamo come gioco l'oroscopo come gioco sì 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 posso pure starci però non ve lo mettere in mezzo a delle situazioni di emergenza del genere perché a quel punto veramente stai esagerando un pochino e dai sono d'accordo sono d'accordo alla fine è più questione dello spazio in cui si dà e della serietà con cui ci prendiamo e ci sta che sia una cosa leggera che poi dopo si fa per riderci sopra però un altro discorso appunto specialmente in un servizio pubblico dove comunque c'è una direzione quindi non è che è capitato che non so tra persone che parlano al bar e quindi c'è stata la scelta di quello che penso lo so però vabbè io di recente ho avuto a che fare un po' con la Rai con le televisioni quindi ti posso dire che so come funziona e io so che non ci ha pensato nessuno ma perché non c'è un meccanismo di controllo tutto è così repentino tutto è così veloce che non hanno il tempo nemmeno di pensarci e quello che dovrebbe pensarci non ha il tempo di valutare e non ha i mezzi per valutare diciamo sono persone molto spesso che lavorano esclusivamente al mondo dello spettacolo gli passano le cose le cose vengono montate è tutto fatto così veloce veloce però capito è una cosa che si perde perché ci dovrebbe essere qualcuno che dice o che non so una morale condivisa che tu dici vabbè sappiamo che questa cosa va così e questo vale per tutto abbiamo visto io in live su Twitch avevo preso in giro questo professore che penso fosse un professore di fisica anche abbastanza bravo però l'avevano chiamato per fare la mucchina la ricetta del disinfettante per le mani in Rai per far vedere agli italiani come si facesse ben venga però la sua ricetta non era sbagliata tutta però ha fatto delle cose atroci tipo usare l'alcol denaturato invece dell'alcol normale che non è che è la fine del mondo capiamoci però l'alcol denaturato non è suggerito dall'OMS perché ha degli additivi all'interno che possono essere dannosi quindi tu non te le vuoi mettere sulle mani poi casomai queste evaporano te le metti in bo diciamo non è proprio l'ideale l'alcol denaturato è quello rosa è rosa per una ragione per evitare che la gente se lo beva se tu te lo metti sulle mani insomma meno male te le metti in bo non è l'ideale no 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 certo tralasciando questo aspetto e tu dici vabbè l'alcol quello da cucina costa di più hanno fatto una ricetta con il denaturato così va a vedere agli italiani come funziona va bene però il problema è che questo ha preparato la disimpettante quindi aveva la sua vaschetta le dosi le ha fatte col cucchiaio tra l'altro cioè non è che dice prendetene cioè lui faceva tre cucchiai di glicerina un cucchiaio e capì io da chimico stavo soffrendo tantissimo poi a un certo punto mischia male vabbè mischia non dava le concentrazioni capito alcol l'alcol ha una devi dirmi la concentrazione perché l'OMS dice quello puro quello diciamo certo glicerina tot quello acqua ossigenata al 3% no e lui diceva acqua ossigenata senza concentrazione questa cosa mi ha ucciso ulteriormente poi ha fatto la vaschetta e fa vedete adesso abbiamo la vaschetta vi dovete rispettare le mani voi ne prendete un poco mette la mano nella vaschetta e se ne incominci a fare così che è una cosa atroce perché tu hai fatto tutto questo processo anche per lasciare tutto quanto sterile se tu mi metti la mano dentro la vaschetta e poi la vaschetta rimane là cosa c'è nella vaschetta? quello che c'era sulle mani cioè voglio dire non è che una sciocchezza capisci certo però il fatto che proprio hanno chiamato questa persona perché è il loro scienziato non esiste uno scienziato esiste uno che ne sa di chimica uno che ne sa di fisica uno che ne sa di biologia eccetera se tu mi chiami lo scienziato sicuramente fallirà se chiami a me a parlare così senza che mi sia preparato di alimentazione o che ne so di fisica di esplorazione spaziale per dirtene una che non sono per niente un esperto ovviamente non devi chiamare me dovresti chiamare te per dirti no 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 certo certo e se tu sei soltanto un esperto e quello che deve fare tutto quanto inevitabilmente quello è destinato a fallire a un certo punto però qui funziona così capito c'è lo scienziato e lo scienziato viene viene chiamato il Batman quello che sa fare tutto sì no è un problema anche per la comunicazione perché poi dopo ho visto per esempio in giornali che c'era i responsabili di scienze è quello che deve riportare tutte quante le notizie di scienze anche se magari non è nella sua formazione ma non siamo le scuole medie in cui c'è l'importo di scienze cioè alla fine se arriva una notizia anche volendo magari sei il responsabile scientifico ma arriva una notizia che riguarda i terremoti come è successo in passato e te non te ne intendi perché la tua formazione è in biologia non è che cioè chiami ci sono c'è l'ente nazionale che si occupa di sismologia è tutto nazionale quindi ma anche perché dipende da cosa dobbiamo parlare cioè io se esce una notizia su un terremoto e io devo riportare quello che c'è scritto in un articolo non c'è bisogno che chiamo qualcuno no 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 certo però se devo fare una considerazione con il terremoto che c'è stato nel 1492 non lo so dove che ha comportato non lo so un movimento io non ne so niente ovviamente non è che mi metto a inventarmelo capisci e se vuoi avere questo tipo di informazione questo livello di complessità devi chiamare un esperto io ti do l'informazione base se proprio hai bisogno di qualcuno sicuramente farò meglio di uno che non sa manco nulla non sa proprio nulla di scienza ci mancherebbe però insomma il mio livello di complessità deve essere essenziale se poi vuoi una cosa fatta bene chiama il professionista come si deve ci mancherebbe oh senti una cosa ti volevo chiedere in realtà come hai vissuto la parte più di beh non vorrei divertere divertente perché poi c'è una parte che è veramente seria e terribile però c'è una una parte diciamo il limite dei complotti assurdi che sono venuti fuori riguardo ah guarda io la sto vivendo malissimo è una delle ragioni per cui ogni tanto mi sparisco per due giorni perché non ce la faccio a stare dietro nemmeno io mi arrivano centinaia di messaggi mi arrivano a me e io neanche mi occupo di questo ho scritto pochissimo apposta per cercare di allontanarmi per non far sì che la gente chiedesse a me e quindi immagino poi voi che vi occupate più da vicino di cose biochimiche sì sì cioè io non sono un virologo né un immunologo quindi per carità mi chiedono delle cose tipo diecente Dario ha fatto il video sulla mascherina quello è esattamente quello a cui avevo risposto una persona in privato no? a cui avevo risposto in privato però ecco a me quello che mi era successo all'epoca era che un ragazzo mi dice stanno facendo la mascherina in casa per chi non ce l'ha e io gli ho detto perché dovresti metterti la mascherina dato che la mascherina non ti serve e lui fa no no perché adesso è andato in Rai un medico che ha detto che tutti dovremmo per forza avere la mascherina e io l'ha già capito a soffrire perché la mascherina la devi mettere soltanto se sei malato perché serve per evitare che tutto stisca in faccia alle persone quindi uno se sei a contatto con un malato o comunque se non sei in quarantena o non mantieni la distanza o devi lavorare a contatto con il materiale però per le persone normali non hanno proprio bisogno della mascherina ma per niente vabbè queste qua dicevano bisogna fare assolutamente la mascherina le mascherine sono esaurite fatevele in casa e lui mi ha detto ha usato la carta forno e io appena ho eh sì appena mi ha detto la carta forno la prima cosa che ho pensato è ma scusami ma non è come respira cioè come fai a respirare perché l'obiettivo di una mascherina è che deve filtrare l'aria in ingresso e in uscita se non entra l'aria come fai a respirare o te e io però ero stanco mi è arrivata una marea di queste cazzate allora mi sono rifiutato di andarmi a documentare mi sono rifiutato di andare a vedermi pure questa cosa perché capito nel frattempo tutti i documenti su un sacco di altre bufle che arrivano cioè questa cosa no non la voglio cercare tempo due giorni Dario ci fa un video dove dice quello che dicevo io non puoi respirare l'aria entra di lato l'ho detto hai visto che non sono scemo io non ho detto niente perché ho pensato magari stanno suggerendo di mettere le mascherine così se ti ammali tu starnutisci e sbatte contro la parte capito impermeabile per non sbagliare non dico niente infatti era una cazzata proprio oggi ho fatto uscire sul mio secondo canale il video dove leggo con Roberto Cighetti tutte le bufale delle catene di Sant'Antonio che giravano su WhatsApp ah cavolo devo recuperarla anche quelle devastanti cioè quello ti dice il virus è grosso così qualsiasi posto non è vero per niente non lo so dettagli tecnici che noi non conosciamo il virus permane sei giorni sulle mani poi rimane tre giorni sulla trachea poi passano i polmoni cose assurde e non capisco nemmeno perché lo facciano perché cioè io posso capire se tu sei un giornale pubblichi bullshit cazzate ha il tuo scopo di indormi a cliccare e tu guadagni dalle pubblicità lo capisco ma creare una bufala per farla girare su WhatsApp tu cosa ci guadagni io non riesco a capirlo bro mi sfugge io la cosa che più assurda che mi era arrivato era che era un complotto per colpire i vecchi perché non ci sono i soldi e l'Ips come tanti altri enti hanno fatto in modo che colpisse principalmente i vecchi così sfoltiscono la popolazione certo vabbè ci sta in realtà se vuoi io ho elaborato una teoria se fosse un complottaro anzi se ci sono complottisti in ascolto rubatemi questa questa è un metodo del pianeta per abbassare l'inquinamento perché hai visto che botta di abbassamento davvero causato il coronavirus è meraviglioso se noi entrassimo in quarantena due mesi all'anno il problema del pianeta senza quarantena ragazzi guardatevi in casa basta non si dice più basta ma due mesi all'anno abbiamo risolto i problemi è una volta buona guarda due mesi programmati di fermo così secondo me immagina quante iniziative come cambierebbe l'iniziativa economica se fosse un regolare se tutti gli anni fosse così dalla programmazione di netflix c'è il pubblicità per la prossima quarantena esce questa serie tv costanza suggerisce un complotto dell'inps anche questo è possibile è possibilissimo hanno suggerito anche il complotto cioè il complotto la bufala della vitamina c questa è l'altra che mi ha fatto mi ha fatto sclerare un sacco perché molte di queste cazzate vengono pubblicate da biologi nutrizionisti e te le pubblicano e dicono vabbè ma lui è un biologo nutrizionista deve avere ragione non avendo capito niente evidentemente come funziona la comunità scientifica perché cioè io posso essere un chimico ma dire un casino di stronzate per questo serve capito un contro che serve la maggior parte dice questo l'un per cento dice quest'altro tu che ascolti la maggior parte è l'un per cento se ascolti l'un per cento permettimi di dire che sei un pochetto stronzo e quindi vabbè questa bufala della vitamina c per vendere vitamina c non lo so gente che suggerisce integratori ho visto addirittura prendere integratore con lo zinco perché uccide il coronavirus pubblicato da una tizia che si chiamava biologa nutrizionista su facebook cioè inimmaginabile e tu cosa puoi dire questa qua è una biologa nutrizionista pubblica sta roba sta roba per il suo pubblico e tu per il suo pubblico non sei nessuno quindi si bevono sta roba si prendono lo zinco e penso di essere guariti e per sempre ok con il coronavirus è un sacco pericoloso perché ho visto che uno dei problemi ora con l'identificazione di casa è che tanti pensano di guarirsi in casa e quindi se hanno la febbre e magari davvero sono malati invece di chiamare un dottore pensano vabbè trovo io una cura non c'è bisogno certo certo sì quindi da questo punto di vista possono creare problemi anche tipo in singola per ogni singola famiglia ognuno di noi magari c'ha un parente qualcuno che è più tendenzialmente proprio cioè convinci sì ho capito lo zio lo zio dai lo zio però diciamo i parenti spesso una cosa che ho notato che può funzionare che noi siamo più abituati a trovare le bufale più velocemente non voglio dire che i giorni poi non sono franzabili ma diciamo che siamo più avezzi nel riconoscere catene inutili eccetera un pochino di più a verificare più velocemente su internet spesso siamo super perché siamo abituati poi a dibattiti su internet dove prendi la pazienza in 3, 2, 1 però siamo molto abituati aspetta che mi sente male il microfono mi dicono ah il microfono gracchia ecco sì ecco sì Genau Ebbè sì, ebbè certo. Non ti si sente, oh che è successo, oh no cavolo, vabbè allora li intrattengo io mentre lui, ciao ragazzi sono il nuovo Adrian, ora questo è il mio canale, parleremo di alieni, smutate Adrian, hai ragione. Adesso è caduto totalmente l'audio, e raga ve l'abbiamo capito, lo scrivetelo ai 10.000, un secondo che risolviamo. Sì abbiamo capito, un secondo, un secondo, state calmi, state calmi. Ora non sentiamo, sì ragazzi ho capito, non lo scrivete tutti quanti, qualcuno lo chiami al telefono, a random. Sì sì. Sì niente, sentono solo me. Riabilita ufficialmente con la, no allora ragazzi io non riabiliterò mai i koala, assolutamente, e anzi soprattutto in questo periodo di pandemia, c'è la dobbiamo prendere più o mai con gli animali buffi che causano questi danni. Vi posso notare che tutto questo casino è nato dalla Cina? Secondo voi perché è nato dalla Cina? Qual è l'animale cinese per eccellenza? È il panda. Secondo voi questo virus non è stato scaturato, è proprio creato dai laboratori di panda, è rilasciato per uccidere tutta la specie umana? Secondo me questa è proprio una prova devastante. No, ora ti sento male anch'io però Adrian. Ora ti sento stranissimo, come se sei da un altro mondo. Sì ragazzi io sento Adrian perché noi siamo su un altro programma praticamente. Ovviamente, quindi stiamo parlando da quell'altra parte e poi voi lo vedete entrare qua, capito? La lobby della vitamina C vuole mettere la tacera. E infatti. Complotto i poteri forti lo hanno mutato. È vero ragazzi, è vero. Pandemia non ci avevo pensato. Cime di rapa per i panda. No comunque ragazzi è vero, due sono le cose. O è stato creato il laboratorio dai panda, proprio per vendicarsi, per vendicarsi nei miei confronti, perché io ho detto la verità. E loro i poteri forti del bambù. Oppure è colpa di Papa Francesco, perché cazzo doveva dare uno schiaffo proprio a una cinese, maledizione. Vedi? Non si fa. Una volta è successo che un Papa schiaffeggiasse in tempi recenti una persona. E vedi che succede. La conquista di Link for Universe da parte della ciurma. Quando Adrian mi ha chiesto di venire a fare la live con lui, non mi ha detto che dovevo farla io la live. No, ti sento ancora come se stessi uscendo da un trattore surreale. Sì, io tipo adesso non ti sento. Senti, ma tu hai un... No, non ti sento per niente. Se tu hai un computer, prova a staccare proprio le cuffie. Ah, non ce le hai proprio adesso. Prova... Ora ti sento. Eh certo, certo. Non passi più dalle cuffie, capito? Ci siamo sentendo al microfono normale. Eh vabbè. Però lo sai come sul... Insomma, la legge di Murphy. Se qualcosa può andare male, va male. Ora si sente malissimo. Si sente? No, si sente. Si sente. Ecco, lo sentiamo. Ok. Si sente male però. Gracchia. Eh vabbè. Eh però raga, voi siete proprio... Eh che cavolo. Un po'... Adattatevi un pochino. Cioè... Troppo... Noi no, noi no, noi no. Cos'è noi no? Noi... Ah no, non lo sentite più. Ok. Uno dice però, si sente una meraviglia. E quindi non capisco. Uno lo sente una meraviglia, gli altri non lo sentono. Non si sente. È colpa degli ingegneri informatici. Maledetti ingegneri! No, non lo sentono. Boh, tu hai un altro microfono, un'altra cuffia, un'altra roba. Sì, prova a caso mai. Ma no, ti preoccupare dai. Immagina se cosa sia successo se non c'era viva un ospite. E quindi al momento tipo... Saresti rimasto tu da solo ad armeggiare. Con le persone che scrivono non si sente, non si sente, non si sente. Perché continuano a scrivere. Non so che non si sente ragazzi. Allora, vediamo se si sente adesso. No, perché c'è un piccolo ritardo nella chat. E qui dobbiamo vedere... Ah, non si sente una meraviglia. No, no, aspetta, aspetta che devo vedere se... Io ti sento bene. No, non ti sento benissimo. Proviamo a leggere il labbiato. Si sente il linguaggio dei segni. Io tra l'altro sì, sto vedendo adesso indifferita quello che ho detto prima. Sto tipo gesticolando tantissimo. Sembra che sto facendo... Praticamente... Sto spiegando ai sordi. Adrian scrivi sulla lavagna suggeriscono. Ci hanno hackerato i panda. Ma io cosa sto dicendo? Quanto sono in ritardo? Scusa, perché io vedo cosa vedono gli altri. Ah, no, è che io stavo la live a metà. Non sapevo perché. Ah, non ero così rota in ritardo. Allora, ragazzi, adesso vi sento. Lo sentite, Adrian? Ancora muto, Adrian. Prova a parlare, Adrian, perché in effetti... Ora non stai parlando. Io ti sento. L'audio esce. Io sento Adrian, ma non la barbascura. Vabbè. Come è possibile. Siamo... Oh, raga! Forse... Abilitati i sottotitoli. No, no, no. Stavo scherzando. Allora, Adrian è muto. Barba scura si sente. Eh, sì. Eh, infatti... Da quanto è che stavi in live tu? Adesso. Eh... Quindi sei in live da 3 ore e 24. Se... Cioè, mi sa che ti toccherebbe interrompere qua, giustare e ritornare. Però ti taglia il video, poi. Ti taglia la live. Eh... Questo è un casino... in paranoia. Ciao ragazzi, benvenuti a Barbascura for Universe. Oggi affronteremo... E' vero, ci sta. Sì. Con del whisky, è vero. Sta sul secondo canale, sul mio secondo canale. Ci ho fatto una chiacchierata fighissima sul... Comunque è vero. Ma scusami, se... Mo te lo chiedo qua, perché è successo. Ma secondo te non potresti andare su OBS a fare la live? No, te lo chiedo proprio in maniera del tutto... Non so se YouTube ti lo consente. Eh no, no, ma infatti ci ho messo un po' di pre-usarlo. No, perché l'unica cosa figa di OBS è che ti puoi vedere anche altri video. Quindi puoi andare a cazzeggiare, ti puoi vedere lo schermo del computer. Ora sono un po' impostato così per via di... di Twitch, no? Quindi quando... quando citiamo delle cose io le andavo a cercare, le piazzavo, ho capito se mi è stato figo. Sì, sì, sì. Diciamo che adesso abbiamo altri problemi da dove risolverlo. Quello è l'ultimo. Usa le cuffie del cellulare, però non credo che entri su un computer, sai? Non credo che vada l'obbio. OBS supporta YouTube. Supporta o sopporta? Spegni e riaccendi tutti come perché i tempi. Barbascura parlaci dei tardigradi nello spazio a sto punto. Eh, io dovevo parlare. Il problema è che mi manca sempre il tempo. Uno degli approfondimenti che volevo fare sul secondo canale da un sacco di tempo era questo. Raccontarvi della storia dei tardigradi che hanno colonizzato la luna. Non so se avete sentito quella notizia. Questa notizia mi ha fatto un pochino incazzare perché è così che l'hanno raccontata. L'hanno raccontata come la prima specie che ha colonizzato un altro pianeta in questo caso che bla 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 però in pratica la storia è un po' diversa. Come avevo raccontato nel video dei tardigradi non è che sopravvivano nello spazio profondo o meglio non è che vivano più normalmente nello spazio profondo. Loro sono più che altro in grado di sopravvivere attraverso il fatto che entrano in questo stato di riposo diciamo forzato. Quindi in pratica sono come se fossero congelati. Tutte le relazioni biologiche sono più o meno congelate ma non è che è esattamente in vita. Cioè non è che sono in grado di andare dove cazzo li pare o mangere quel che li trovano nello spazio. Sono un po' come uno stato di morte apparente. Quindi pure se arrivano sulla luna in quello stato che tu mi fai il titolo hanno colonizzato la luna diciamo non è esattamente così capisci? Quindi volevo raccontare questa cosa però ovviamente non... Parlaci dei buchi neri. Ma però sì però sì è ciò che difesa. Allora io ti sento come se stai uscendo da un trattore ancora una volta. Parla prova. Come ho come tu non ho un trattore niente. Sì forse è un problema della connessione è possibile non so perché ti sento è come se tutte le tue sillabe siano tagliate è diluite capito? Si sente dicono che si sente prova a parlare si sente ma è sì però non capite il ambo sono svegliato ricordato quindi sono svegliati a cavo io ti sento stranissimo si sente proprio strano sei un misto tra Robocop e continuo a uscire dai trattori scrivono si sente come un bork Adrian Robocop Adrian parla Clinton bellissimo togli le cuffie Adrian oh ti sento bene aspetta ti sento bene aspetta io ti sento vediamo si sente sto aspettando che si sente al contrario non si sente cazzo cazzo perché io non lo sento bene sembra un trapper anche Robocop Adrian e come si risolviamo qua no stessa abbassa l'autotone mio Dio perché io ti sento benissimo capito però a quanto non è che hai toccato qualcosa perché io ti sento da Dio cioè ti sento bene quindi in teoria se io ti sento bene l'audio in ingresso va bene il problema diventa Adrian è un Dalek e e e e e noi noi non sentiamo allora ragazzi se fra 5 minuti Adrian è tornato vi leggerò un passaggio da con con voce del del pastafarianesimo e il pastafarianesimo ad esempio ha un ottimo punto di vista cioè loro fanno notare effettivamente che la crescita cioè il riscaldamento del pianeta ovviamente della temperatura è direttamente proporzionale alla al declino del numero di pirati nel mondo se fate il caso man mano che i pirati diminuiscono nelle epoche aumenta il riscaldamento globale e quindi abbiamo bisogno di più pirati per risolvere il problema di inquinamento e questa è una cosa sacrosanta ci pubblicherò un articolo prossimamente io ti sento sempre benissimo allora facciamo così questa là ora non si sente proprio eh che cazzo allora fai così Adrian tu parli e io ripeto sì 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 ora ora lo dico lo dico allora ragazzi faccio l'interprete di Adrian mi sembra perfettamente sensato io sento bene eh vabbè Adrian parla e barbascura ripete eh vabbè facciamo così niente praticamente Adrian ha detto che adesso chiudiamo la live quindi così risolve questo problema e la rilancia appena risolto probabilmente fra pochi minuti in realtà non sta più cioè metto nei suoi panni perché io al suo posto sarei disperato visto che non so assolutamente come si potrebbe risolvere perché se io lo sento bene vuol dire che l'audio sta entrando bene e perché non arriva a voi entra così tanto bene che io sento le campane che stanno adesso suonando da Adrian mi confermi sono le campane Adrian chiama barbascura al telefono e lui lo mette in viva voce perché no sì probabilmente il programma sì sì ok 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 va bene va bene allora ragazzi adesso cercheremo di risolvere i problemi tecnici ma la cosa che voleva rimarcare Adrian è ricordarvi che questa live ha uno scopo di beneficenza e trovate il link a cui donare sotto potete donare al CESVI e quindi vedete ci sono i link esattamente dopo sotto questa live se volete fare una cosa molto bella è insomma è il momento di farla immagino che adesso Adrian invece chiuderà e ritornerà da voi a breve appena risolverà i problemi quindi insomma però ricordatevi che questa è una live di beneficenza quindi donate daie daie niente Adrian ha detto che siete brutti e che non vuole più no vi saluta tutti ha detto che siete meravigliosi e e vi ritornerà vi ringrazia per essere passati e vi ricorda che insomma tornerà breve ringrazia anche me di essere passati soprattutto me perché allora io mi ringrazio per essere passato e e niente ci vediamo ci vediamo presto mi raccomando ritornate prestissimo che mo ritorna e poi ritorna dai raga grazie a tutti